Abbiamo esterno! Abbiamo esterno! Nico González è ufficialmente, o meglio ufficiosamente, un nuovo giocatore della Juventus. Prima di continuare, se ti piacciono i nostri video, iscriviti a Tifosiamo. È gratis ed è il modo migliore per supportare il nostro lavoro. Finalmente, 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 finalmente qualcosina si muove di nuovo anche da noi, perché a parte Calulu, dopo tiriamo un blackout clamoroso. Dovemmo una rosa cortissima e veramente, finalmente, siamo riusciti a chiudere Nico González. Oggi qualcosa succede, così non vi lamentate più, siete tutti molto frettolosi, è vero che manca poco alla fine del mercato, ma ci vuole pazienza e le trattative si fanno con calma. Poi, non lo so, magari qualcuno più bravo o digiunto le vuole andare lui a provare, però io ripeto, i conti si fanno alla fine. Comunque, la notizia di oggi è che il tiro e molla per Nico González è finito. Nico González sarà presto un giocatore della Juventus. Nico González è pronto a vestire la maglia della Juventus, operazione da circa 38 milioni. Infatti, è stato raggiunto l'accordo totale tra Juventus e Fiorentina. Può piacere o non piacere, può essere altra valutazione o no, ma per me è un giocatore che la Juventus fa benissimo a prendere, soprattutto perché è un giocatore che vuole Tiago Motta e quindi io mi fido del mio allevatore e mi fido di Giuntoli. Quindi, benvenuto Nico González. Io personalmente, con la storia che ci ha raccontato sempre e continuativamente, che quando andiamo a prendere un giocatore da Firenze, tendenzialmente negli ultimi anni ci va sempre male, perché esaltarsi per Nico González? Sono tanti soldi, sì, sono tanti soldi. Molti storceranno il naso, non li vale un giocatore che è comunque avvezzo all'infortunio facile, è un giocatore che ha giocato nella Fiorentina. La Fiorentina in questi anni ce ne ha rifilati di pacchi. Se pensate a Bernardeschi, se pensate purtroppo paradossalmente anche all'evolversi della situazione legata a Federico Chiesa, per come sta finendo. Attenzione, perché il nostro giuntolone, quello che per tanti dorme è un coglione, perché hanno finito di criticare Allegri, devono trovare qualcun altro da criticare, perché la loro vita senza critica è una vita inutile, aspettiamoci altri colpi in entrata. Abbiamo accontentato un porco, abbiamo accontentato uno che ci ha fatto cara la pelle e in effetti, vedendo delle cifre, ci siamo piegati al volere del padron della Fiorentina e la richiesta fatta da lui erano di 30, se ricordo male, poi 35, poi è arrivata la Juventus, quindi sei tu di Juventus, stai venendo, sei tu quella squadra che ci ha fatta ricca in tutti questi anni, e beh ci devi dare 40 milioni di euro. Beh ragazzi, ci siamo arrivati vicini, per 2 milioni non gli abbiamo dato 40. Chiudete tutto, porca mignotta ragazzi, porca puttana. Scusate le parolacce, ma che cazzo di ennesima operazione di calciomercato che ti va a chiudere la Juventus, che ti va a chiudere Giuntoli, nel reparto in cui mancava esattamente quello, un calciatore con quelle caratteristiche. Nico Mancino, un giocatore molto intelligente, un giocatore forte di testa, un giocatore che sa attaccare primo, secondo palo, mi sono visto tantissimi highlights, tantissime immagini in questi giorni, no? Sul suo percorso, e a Stoccarda, e a Firenze. Stoccarda ha giocato prevalentemente sul piede forte, a sinistra. Quando è arrivato in Italia ha iniziato a giocare a destra. Sa fare tante cose, sa farle bene, un giocatore che anche in fase di difensiva è molto generoso, e credo che questo aspetto sia fondamentale. Dal punto di vista puramente del calciatore, per me è perfetto per Tiago Motta. Esterno destro nel 4-1-4-1, 4-2-3-1, chiamatelo come volete. Esterno destro per Tiago Motta, perfetto. Giocatore di piede mancino, giocatore che è abile tecnicamente, che è bravo nel tiro a giro, è un giocatore che segna anche tanto di testa, quindi una caratteristica strana, anche se vogliamo bizzarra per un esterno. Non il più grande calciatore di rigore della storia. Che cos'è Nico González? Nico González per me è un giocatore che è utile in una grande squadra, un po' come gli succede nell'Argentina, come, tra virgolette, Gregario di lusso. Gregario di sostanza, giocatore da fatica, che però non sia la stella di quella squadra. È per quello che io anche alla Fiorentina non lo vedevo come 10, non lo vedevo come... Ha fatto anche fatica, da sto punto di vista, di essere il giocatore più luminoso, di essere la stella. Nico González Juventus fatta per 37-38 milioni. Troppi! Troppi esagerati e venduti a Rocco Commissio. Sbagliato. Le cifre non mi convincono più di tanto, tuttavia trovo il profilo di Nico González ideale. Ideale. E a destra abbiamo un esterno vero, ragazzi. È già convocabile per lunedì. Gioca da titolare non credo, ma sicuramente dalla prossima rientrerà la grande delle rotazioni. Ci può stare che ci siano delle persone estremamente felici perché ritengono Nico González consono allo stile di gioco di Tiago Motta. Altri invece che dicono beh, minchia, noi comunque se ci pensiamo lì a destra potenzialmente potevamo avere chiesa, potevamo avere sulle... In questo momento, fino a prova contraria, abbiamo UEA che tra l'altro lo vedremo dopo la sosta e appunto da oggi si può dire, no? Nico González. Che non è neanche sbagliato, eh, sinceramente, se ci andiamo a pensare. Perché se pensi al tasso tecnico qualitativo di Sule e di chiesa, dici porca miseria. Per quanto io reputi Federico Chiesa un grandissimo giocatore, Nico González lo considera ancora più adatto al gioco di Tiago Motta. E potenzialmente potrebbe diventare molto, molto più forte rispetto a Federico Chiesa. Perché ormai Chiesa Lappi ce l'ha raggiunto. Non sono molto convinto su Nico González, ma non tanto per il giocatore o meno, per la cifra. Mi sembro un po' spropositata. Però, io come dico sempre, da buon tifoso, buon opinionista, metto sempre la faccia, sono sempre qui a rimangiarmi tutto e a chiedere anche scusa. Vedremo Nico González se mi farà rimangiare tutto. Io me lo auguro, perché io non sono il tipico tifoso che va contro il giocatore o contro la Juve solo perché voglio le mie ragioni. Ma te li scalano in busta paga i soldi? Perdi dei soldi dallo stipendio? Allora, una cosa su cui io potrei, tra virgolette, contestare è la tempistica. Effettivamente la tempistica può rallentare il programma del nuovo progetto della Juventus. Perché adesso arriverà, ci vorrà un mesetto per ambientarsi e così accadrà con Coop Miners. Arriverà anche lui! Arriverà anche lui! Calma! Che ora i botti hanno arrivato tutte le mazzate finali, le botte finali, arriveranno tutte di colpo. Pu! Sarete i primi a salire sul carro di Giuntoli. Eh no, però io l'avevo detto. Eh, però io di qua, però io di là. Calma! Che può aspettare tutto quanto parco. Io sono seduto lì, arrivo al fiume, in attesa che passino i cadavere uno o l'altro. E passeranno, passeranno. Non mi preoccupare. Avevo la maglia di Vlaovic e se ne è andato alla Juve. Avevo la maglia di Chiesa, l'ho pure bruciata, ed è andato alla Juve. Ma, ho pure la maglia di Nico González. La maledizione per caso continua, devo buttare un'altra maglietta? Buttare nel dimenticatoio, intendo. Beh, ragazzi, ci sono andato molto vicino.